Una questione privata, è un romanzo di Beppe Fenoglio pubblicato nel 1963, che racconta la storia di due amici, Milton e Giorgio, durante la resistenza italiana nella Seconda Guerra Mondiale. Il romanzo è ambientato nelle Langhe, una regione collinare del Piemonte, e segue le vicende dei due protagonisti, che attraverso le loro esperienze si scontrano con la dura realtà della guerra e con il tema della ricerca della verità e dell'amore. Milton, un giovane partigiano, cerca disperatamente la sua amata Fulvia, anche lei impegnata nella lotta partigiana, di cui non ha notizie da tempo. Giorgio, il suo migliore amico, si unisce alla sua ricerca, nonostante sia impegnato in una missione importante per la resistenza. Insieme, i due amici attraversano le Langhe, tra le difficoltà della guerra e le relazioni umane sempre più complesse. La storia si sviluppa attraverso i dialoghi e le riflessioni dei personaggi, che cercano di fare i conti con le proprie emozioni e le proprie azioni. Fenoglio descrive con precisione e realismo le azioni militari, ma il romanzo si concentra soprattutto sui personaggi e sui loro conflitti interiori. L'ambientazione rurale e la descrizione dei paesaggi contribuiscono a creare un'atmosfera cupa e angosciante, in cui la guerra sembra essere un'entità onnipresente. Fenoglio si concentra sulla psicologia dei personaggi, sui loro desideri, le loro paure e le loro scelte, che spesso sono guidate dall'emozione del momento. Milton è un personaggio tormentato e ossessionato dall'amore per Fulvia, che rappresenta per lui non solo la donna amata, ma anche la verità e la giustizia che cerca nella lotta contro l'oppressione fascista. La sua ricerca diventa simbolica della ricerca della verità e della giustizia nella lotta partigiana. Giorgio, invece, rappresenta il personaggio che si dedica totalmente alla causa della resistenza, ma che scoprirà di dover fare i conti con i propri sentimenti e con il tradimento. Nel corso della storia, Giorgio dovrà fare delle scelte difficili e affrontare le conseguenze delle sue azioni. Nel romanzo, Fenoglio descrive anche i rapporti tra i partigiani e i contadini locali, spesso divisi tra l'appoggio alla resistenza e la paura delle rappresaglie fasciste. La descrizione dettagliata della vita durante la resistenza e delle relazioni tra i personaggi permette di comprendere la complessità della lotta partigiana e la difficoltà di trovare una verità univoca. La storia è caratterizzata da un'atmosfera cupa e angosciante, in cui il destino dei personaggi sembra essere sempre più incerto. Fenoglio descrive con abilità i conflitti interiori dei protagonisti, che devono affrontare le difficoltà della guerra e le conseguenze delle loro scelte. Il romanzo è diviso in tre parti, ognuna delle quali rappresenta una fase della ricerca di Milton e Giorgio. Nella prima parte, i due amici partono alla ricerca di Fulvia, ma il loro viaggio viene interrotto dall'arrivo dei fascisti e dalla morte di uno dei loro compagni. Nella seconda parte, Giorgio decide di abbandonare la sua missione per aiutare Milton nella sua ricerca, ma vengono catturati dai fascisti e portati in un campo di prigionia. Nella terza parte, i due amici riescono a fuggire dal campo e continuano la loro ricerca, finché non incontrano una giovane donna, Rosetta, che sembra sapere qualcosa sulla sorte di Fulvia. La figura di Rosetta rappresenta la verità che i protagonisti cercano disperatamente. La giovane donna, infatti, sa cosa è successo a Fulvia, ma decide di non rivelarlo, creando così una situazione di incertezza e di ambiguità. Questa ambiguità rappresenta la difficoltà di trovare una verità assoluta nella guerra, dove spesso le situazioni sono complesse e incerte. Il romanzo si conclude con l'arrivo degli alleati e la fine della guerra, ma la ricerca di Milton e Giorgio rimane incompleta. La verità sulla sorte di Fulvia rimane un mistero, ma ciò che conta per i protagonisti è il senso di appartenenza alla lotta partigiana e il valore della ricerca della verità e della giustizia. In sintesi, Una questione privata, è un romanzo che affronta il tema della resistenza italiana durante la Seconda Guerra Mondiale, ma che si concentra soprattutto sui conflitti interiori dei personaggi e sulla difficoltà di trovare una verità assoluta nella guerra. Fenoglio descrive con abilità la complessità della lotta partigiana e la difficoltà di trovare un senso di appartenenza e di giustizia in un contesto così difficile. Il romanzo è un capolavoro della letteratura italiana del Novecento, che ancora oggi rimane attuale e coinvolgente per i lettori.